La formula RLC, riscalda, leggi, crea. Voglio tornare ancora sul concetto di creatività. Studia con creatività e per farlo organizza la tua routine di studio in tre sottoroutine. 1. Riscalda i tuoi muscoli. 2. Leggi esercizi coerenti con l'argomento che stai affrontando. 3. Allena la tua creatività. Il riscaldamento consiste nel fare un po' di stretching e poi eseguire un rapido check dell'argomento che stai affrontando. La lettura serve ad avere un'imposizione all'esterno, cioè leggendo un arrangiamento scritto da qualcun altro che non sei tu, devi per forza eseguire ciò che qualcun altro ha scritto per te. La lettura deve essere strettamente attinente all'argomento che stai studiando. L'allenamento creativo serve invece a sviluppare la tua capacità di uso dell'argomento che stai studiando. Dedica sempre almeno 15 minuti a scrivere su carta delle variazioni dell'argomento che stai studiando, oppure improvvisa per 15 minuti, usando solamente il materiale che stai approfondendo. Quando sei in questa fase dello studio, prova ad usare la metodologia della composizione. Non andare a caso. Se non hai idea di come fare, non disperarti. Forse il problema è che nessuno ti ha mai spiegato come si fa o ti ha mai detto dove andare a reperire queste informazioni. Una buona idea è quella di procurarsi dei testi che trattano semplicemente quest'argomento, come ad esempio tecnica di composizione e tecnica di contrapunto scritte da Gordon Delamont. Se ancora non sei in possesso di questi manuali, segui i miei suggerimenti. Parti dalla tecnica della domanda e risposta. Scrivi una frase che chiameremo domanda e poi scrivi una risposta seguendo queste regole. 1. Ripetizione. 2. Inversione ritmica, cioè scrivi la stessa frase ma al contrario, cioè dalla fine all'inizio. 3. Trasposizione melodica. Con trasposizione melodica si intende lo spostamento verso l'alto o verso il basso dell'intonazione della frase che hai già scritto. Non so, se parti da rullante prova a spostarti sui tom, sui timpani. Ritmicamente rimane tutto uguale, è solo uno spostamento melodico. 4. Augmentation. Augmentation significa passa a una suddivisione più grande. Se hai scritto una frase che contiene, per esempio, ottavi e quarti, passa a mezzi e quarti. 5. Diminution. Sarebbe il procedimento contrario di quello visto nell'augmentation. Se hai usato quarti e ottavi, passerai a ottavi e sedicesimi. In pratica, raddoppia la velocità. Nel primo caso dimezzava, in questo caso raddoppia. 6. Ripeti la frase variandone solo una parte, tipo la metà iniziale o la metà finale o una parte centrale. Dove puoi trovare esempi di queste cose? Semplice, studia i grandi. Trascrivi le frasi dei batteristi che più ammiri, una volta che ce le hai su carta, e seguile copiandole il più fedelmente possibile, fino ad ottenere un livello di emozione pari se non superiore a quello che senti quando ascolti il tuo idolo che la sta suonando. Attenzione, non fermarti a questa fase però. Adesso arriva la parte migliore. Ora che hai interiorizzato la frase sia a livello meccanico che emotivo, cerca di estrapolarne il concetto che si nasconde all'interno di quella frase. Non è importante che sia lo stesso concetto che aveva in testa il tuo idolo quando l'ha suonata. L'importante è che tu ne trovi uno tuo. A questo punto hai la chiave per modificare il pattern o addirittura crearne uno nuovo tutto tuo. Vedrai che se ne scrivi uno che ti farà raggiungere l'esaltazione del generante o addirittura di più, entrerà di sicuro nel tuo repertorio. Registrane diverse versioni e riascoltale. Ora sei tu il vero insegnante di te stesso e anche il tuo primo fan. Scegli ciò che ti riesce meglio ed usalo. In questo modo comincerai a modellare e creare il tuo stile. Una volta Max Roach disse Comincerai a creare il tuo stile il giorno che smetterai di ascoltare gli altri e comincerai ad ascoltare te stesso. La mia interpretazione di questa frase è questa. Devi registrarti il più possibile. In questo modo passerai molto più tempo con te stesso che con i tuoi idoli. Imparerai a giudicarti più attentamente e il tuo cervello si ricorderà le tue frasi migliori e vedrai che le userai più spesso di quanto tu credi. Lascia che ti elenchi gli strumenti che secondo me renderanno la tua practice routine più efficace ed efficiente. Uno, un computer, uno smartphone o tablet con le applicazioni giuste. Due, una telecamera che sia in grado di registrare un audio potente come quello della batteria come ad esempio la serie Q della Zoom o le Sony HDR. Tre, un pad, la tua batteria e le bacchette. Quattro, una scheda audio da connettere al tuo computer che abbia un numero sufficiente di ingressi microfonici a seconda di quanti microfoni vuoi usare per registrare la tua batteria. Le applicazioni che devi sicuramente avere sono una DAV, cioè una Digital Audio Workstation che sarebbe un software di registrazione audio, per esempio Ableton Live, Logic, Cubase, Pro Tools, Cakewalk, GarageBand e altri ancora. Scegli tu. E poi un software di scrittura musicale come ad esempio Finale o Sibelius o MuseScore. Ora mi rivolgo a chi è a un livello un po' più avanzato. Parlando della scheda audio dovresti avere una scheda audio che ha almeno due ingressi microfonici per poter registrare una batteria anche partendo da solo due microfoni. Uno per la cassa, per esempio io uso lo Sure Beta 52 o la KG D412. E come panoramico un Rode NT. Se invece vuoi avere più microfoni ti consiglio sicuramente uno Sure SM57 a rullante e per microfonare i Tom puoi prendere quei microfoni detti a clip, tipo i Sennheiser della serie BF oppure esistono similari della KG e anche della Shure. Oppure esistono delle valigette complete di tutti i prezzi che all'interno hanno tutti i microfoni necessari per registrare una batteria. Sul tuo smartphone devi avere ovviamente un'applicazione che sia un metronomo come per esempio Tempo Advance o Time Trainer. Ce ne sono moltissime, scegli tu quale. L'importante è che ti dia almeno tre suoni diversi. Uno per il primo beat, uno per il secondo, terzo, quarto eccetera eccetera e uno per le suddivisioni. Per quanto riguarda la batteria invece dovresti avere un set completo con almeno due rullanti, due tipi di ride uno per il jazz e uno per il pop, rock, fusion eccetera e anche un secondo set di pelli per la cassa tipo le pelli sabbiate, la risonante non bucata per gli stili un po' più acustici e mentre quelle a doppio strato non sabbiate con il foro sulla risonante per gli stili musicali più vicini al pop, rock, funk. Per quanto riguarda i battenti dovresti avere oltre le bacchette almeno un paio di spazzole e un paio di mallets ed infine una stanza insonorizzata dove poter studiare il tuo strumento in santa pace per almeno quattro ore al giorno. Ah, e non dimenticare di avere sempre con te un workbook dove annotare tutti i tuoi progressi sugli esercizi che stai facendo. In conclusione lascia che ti dica quali sono secondo me gli strumenti più importanti in tutto questo elenco che ti ho fatto fino adesso. e sono 1. Un obiettivo chiaro 2. Tanta disciplina e perseveranza 3. Un mare di pazienza e infine 4. Tanta fiducia